questa è una delle situazioni più pericolose che possono accadere in autostrada questi segnali avvisano della chiusura di una delle corsie della carreggiata solitamente per la presenza di un cantiere e sono sempre posti con un anticipo di almeno 700 metri come ci si dovrebbe comportare quando vediamo questo segnale vedo il segnale adeguo la velocità a quella della corsia adiacente verifico di potermi inserire in sicurezza ed effettuo il cambio di corsia ma cosa scatta nella testa di molti c'è la chiusura di corsia devo assolutamente sorpassare quanti più veicoli riesco prima di inserirmi all'ultimo momento proprio come ha fatto questo pazzo qui